L'ho chiamato Birillo È un robot simbolico di mia invenzione, ecco La parte centrale rappresenta l'eleganza di Misdronio Mentre le parti laterali sono la forza e la potenza dei suoi uomini È una creazione bellissima, è incredibile Talvolta riesce ad avere delle idee così raffinate Devo proprio ammettere che sei veramente un uomo di genio Grazie Misdronio Anche un maiale può arrampicarsi su un albero quando viene adulato Quel maialetto è molto intelligente Infatti è anche molto popolare Hanno dedicato un intero disco a lui, non lo sapeva Misdronio? Ma dici davvero? Sì certo, adesso glielo facciamo ascoltare Preparalo Tonzola dai Certo lo metto subito Sapete ha avuto molto successo tra le ragazze, ecco E' Sì certo, adesso glielo faccio E' Sì certo, adesso glielo faccio l'amore ma le piace mi sdrogno non c'è male nicole non c'è nicole 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 l'amore la mia maniera il 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 ahahah 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 ho voglia di ballare quando ricevo i complimenti oh volevi prenderlo eh